Buon pomeriggio dalla redazione di Florence Multimedia in studio Nicola Giannattasio. Sulla A1 fino al 20 novembre è chiuso in direzione Bologna il tratto tra Aglio e Roncobilaccio per lavori. Il traffico scorre poi regolare su tutto il resto della rete stradale ed autostradale della regione toscana. In A11 segnaliamo che per un guasto l'area di servizio di Peretola Sud in direzione Firenze ha il distributore di benzina chiuso. Sul raccordo Siena-Firenze scambio di carreggiata per lavori tra San Casciano e l'allacciamento A1 di Firenze in Pruneta. Sul raccordo Bettolle-Perugia chiuso lo svincolo di Cortona in ingresso e in uscita per chi pioggia verso Perugia. Sulla statale 1 Aurelia per lavori è chiuso lo svincolo di Follonica Est in direzione Livorno. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Vi auguriamo un buon viaggio.